Io questa sagra l'ho vissuta da bambino sostanzialmente, poi da ragazzino nelle file della banda eccetera e quindi ho qui in questo posto, in questo parco tanti ricordi. Oggi trovarmi appunto nelle vesti di primo cittadino, di sindaco mi rende orgoglioso, mi carica anche di responsabilità e quindi abbiamo cercato di portare a casa questa edizione, questa settantottesima edizione nel modo migliore possibile. La festa per noi è un modo di ritrovarsi insieme con piccoli, grandi, anziani, è un modo per condividere delle serate insieme in allegria, con musica e buon cibo e bevendo anche dell'ottimo vino con delle pesche buonissime. Sono illustratore grafico e ho creato questo personaggio che ormai è diventata la mascotte di Montelabate, la nettarina appunto che campezza sulla locandina della Sagra da diversi anni, nata su i manifesti delle buone notti, altre attività del comune di Montelabate che porteremo avanti ovviamente e quest'anno in veste di regina del territorio come lo è la nostra pesca di Montelabate e la nettarina ha anche una corona e sfoggia la nostra pesca. È diciamo una mostra che è molto interessante per i produttori, non è più come una volta che era la vetrina per tutta la provincia però è una dimostrazione che si può fare, gli enti che organizzano qui con il comune, l'Auser e la Proloco sono da ammirare perché si hanno una bella mano per mettere in mostra questi nostri prodotti. Noi in questi giorni in collina dove non c'è l'irrigazione purtroppo non riescono più a raccogliere le pesche da quando la siccità ha colpito le piante, se no era un'annata buona come produzione anche se in alcune zone come da me l'ha passata due volte un po' di grandine però come quantità è buona sarebbe stata, i prezzi sono abbastanza buoni diciamo che in media abbiamo una richiesta di frutta, di pesche, il doppio di quelle che abbiamo perciò su questo diciamo ci giochiamo bene, però adesso molte aziende non riescono a finire la stagione e questo è un grosso problema perché poi c'è la corsa a quelli che ce l'hanno e alle volte si dice ma così è meglio, invece il problema è il contrario, non riusciamo a contentare la gente cominciano a dire ma perché non me le vuoi dare, ma perché io te le pago di più ed è brutto questo discorso perché non è che possiamo mandare all'asta le pesche il valore è quello lì e su quello noi ci sta bene Ci sono dei terreni ancora a disposizione se qualcuno volesse mettersi a produrre la pesca di Montalabate? Ci sono sicuramente, però abbiamo un calo di quantità di produttori allora noi quando siamo partiti con il bollino del 2014-2015 eravamo più di 50 teniamo conto che la sagra delle pesche all'inizio erano più di 200 produttori l'anno scorso eravamo 23, quest'anno saremo 14 o 15 c'è una diminuzione dovuta dall'età e non c'è rinnovo